Nonostante una gara dominata per lunghi tratti, il notaresco esce sconfitto 1-0 dal terreno del Roma City. L'avvio è equilibrato e avaro di emozioni, la prima conclusione arriva al settimo, con Frulla che su punizione dai 25 metri spedisce le stelle. Al ventiquattresimo il notaresco protesta fortemente per un presunto fallo di mano di Jacoponi su cross dal fondo di Forcini, ma l'arbitro lascia proseguire. Nei minuti successivi il notaresco prende decisamente possesso del pallino del gioco e ha due opportunità con Romano. La prima al trentacinquesimo, con una sponda corta di testa di Defendi ai 20 metri, il diagonale di prima intenzione che termina non lontano dal palo. E' servito ancora da Defendi dal fondo, ma la sua girata al volo sorvola di poco la traversa. Poco prima del riposo, al quarantaduesimo, occasione per i padroni di casa, con Rea che serve in aria a Moreo, girata al volo in diagonale che sfiora il palo, con Scibe Immobile che chiedeva il fuorigioco. Inizia la ripresa e il notaresco prende completamente il controllo del campo, ancora con Romano che non c'entra la porta da due passi, al tredicesimo su traversone basso di Bartoli e poi ancora al sedicesimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Sortita offensiva del Roma City al ventitresimo con una conclusione dai 20 metri di Moreo che Scibe appara in due tempi, poi è solo notaresco. Al venticinquesimo è Gelsic che ci prova dai 16 metri dopo un'azione insistita e fa tremare la traversa. Poi al ventottesimo una conclusione di mercato dall'interno dell'area viene respinta da un difensore a portiere battuto e la richiesta di fallo di mano non ha effetto. Al trentunesimo ancora Romano da due passi di testa spedisce incredibilmente alto. Poi in pieno recupero la beffa con il contropiere dei padroni di casa e la palla in mezzo di Mancino per Rasi che da due passi deve solo sospingere in rete il definitivo 1-0.